Quinta giornata della bella Basilicata Film Festival, prosegue la sezione dedicata alle scuole, proseguono quindi gli appuntamenti, oggi siamo con Alessandro Buccino, liceo scientifico di Muro, giusto? Sì. Quindi oggi in programma c'è il film All'Ovest Niente Di Nuovo, ti è piaciuto? Sì, abbastanza, per quanto ho potuto capire dal primo tempo mi è piaciuto, soprattutto il fatto che si sono riusciti non solo a rappresentare la drammaticità della Prima Guerra Mondiale, ma anche il fatto che comunque questi volontari, essendo giovani, fossero anche abbastanza spaventati, quindi hanno reso abbastanza realisticamente il contenuto. Ok. Che opinioni hai del bello Basilicata Film Festival? Ti piace come è stato strutturato? Beh sì, comunque rende orgogliosi il fatto di essere locani. Ho capito, ho capito. Il cinema ti piace? Sì, abbastanza. Ok, grazie mille.